Buon pomeriggio 13 e 50, lunedì 8 gennaio ben ritrovati con Infostudio. È unanime la solidarietà a favore di Donenio Stamile, il sacerdote che è fra l'altro il coordinatore di Libera in Calabria, molto vicino fra l'altro a Donciotti, il fondatore della stessa associazione, che è stato fatto oggetto di una chiara intimidazione di tipo mafioso, non si può definire diversamente anche se ci sono indagini in corso, anche se ancora non ci si sbilancia da parte degli investigatori, però l'atto che è stato compiuto sabato sera a Cetraro presenta le caratteristiche tipiche dell'arroganza della criminalità più bieca. Mentre il sacerdote stava cenando in un ristorante insieme al sindaco di Cetraro, Angelo Aita, e a un gruppo di capi scout, qualcuno ha legato allo specchietto retrovisore esterno della sua auto un sacco della spazzatura con dentro la carcassa di un capretto. I carabinieri hanno raccolto qualsiasi traccia che possa consentire l'identificazione dei responsabili. Donenio Stamira ha detto di non sapersi spiegare i motivi dell'intimidazione, quindi le indagini riguardo il movente ora non escludono alcuna ipotesi, anche se ripeto è fondata la possibilità che quanto è accaduto altro non sia che un sinistro avvertimento lanciato dalla criminalità mafiosa ad un sacerdote, tra l'altro per molti anni parroco proprio a Cetraro, che ha fatto della difesa, della legalità e dei più deboli uno scopo di vita. L'intimidazione ha sollevato un coro unanime di solidarietà nei confronti di Donenio e proprio lo stesso fondatore di Libera, Donciotti, ha detto che quello ai danni del parroco calabrese è un grave atto intimidatorio che sollecita le nostre coscienze ad essere più vigili e che la strada da percorrere nella lotta alla criminalità organizzata e dalle illegalità è ancora lunga ed ognuno, la politica, istituzioni, i cittadini è chiamato a fare la propria parte. Resistere, ha aggiunto Donciotti, vuol dire assumersi la propria quota di responsabilità perché il problema più grave non è tanto chi fa il male ma quanti guardano e lasciano fare. Siamo vicini a Donenio e andiamo avanti senza paura e senza alcuna esitazione. Il nostro impegno, ha ancora detto Donciotti, non subirà alcun cedimento. Sarebbe stato di natura accidentale l'incendio che è scoppiato ieri pomeriggio in un capannone dei cantieri nautici ranieri ha assoverato. I vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro hanno circoscritto il rogo e limitato al massimo i danni. I carabinieri hanno avviato indagini ma secondo i primi rilievi le fiamme si sarebbero sprigionate a causa di un cortocircuito e fra l'altro sul posto non sono stati rilevati segni di liquido infiammabile o tracce di cose che abbiano potuto dare origine all'innesco. Le indagini comunque saranno ulteriormente approfondite per scongiurare definitivamente la causa dolosa. Ci sono invece pochi dubbi che sia proprio di natura dolosa l'incendio che tra le 12 e le 13 del giorno dell'Epifania ha praticamente e nuovamente distrutto il Lido Ionio. Lido Ionio a Catanzaro Lido nel quartiere Giovino era stato già colpito da un incendio il 19 luglio scorso. C'erano dei clienti dentro che poco prima si era anche giocato una partita di beach volley che precipitosamente avevano dovuto correre fuori, qualcuno era anche stato intossicato dal fumo. I titolari stavano cercando di rimetterlo in piedi e la mattina dell'Epifania di nuovo un incendio, altre fiamme hanno per il momento di nuovo messo fine alla storia del locale anche se il titolare, il gestore non si arrende come sentite, anzi rilancia la palla nel campo delle istituzioni chiedendo loro maggiore solidarietà e vicinanza con atti anche concreti. La prima volta, era il 19 luglio scorso, almeno avevano agito di notte col favore del buio, anche se all'interno c'erano persone che stavano cenando e che dovettero allontanarsi in tutta fretta e qualcuno venne anche soccorso per intossicazione da fumo. Il giorno dell'Epifania non hanno avuto alcun problema a mettere in atto il loro piano alla luce del sole nella tarda mattinata. E così per la seconda volta in meno di sei mesi il Lido Ionio nel quartiere Giovino di Catanzaro è andato distrutto proprio mentre erano in corso i lavori di ristrutturazione dopo il rogo della scorsa estate. Qualcuno ha detto di aver sentito un boato, poi le fiamme hanno avvolto e distrutto ancora una volta ciò che i gestori della struttura stavano tentando di rimettere in piedi. Proprio il fatto che il Lido fosse chiuso e non allacciato alla rete elettrica rende impossibile che le fiamme possano essersi sprigionate a causa di un corto circuito. Ma al di là di tutto il secondo incendio in cinque mesi e mezzo è l'evidente segnale che la struttura è stata presa di mira anche se gli investigatori mantengono il riservo sulle indagini che ovviamente confluiranno nel fascicolo aperto dopo il rogo di pochi mesi fa. L'episodio comunque rappresenta un segnale preoccupante sullo stato della sicurezza degli imprenditori del quartiere Marinaro. Il titolare del Lido, Aniello Grampone, chiede alle istituzioni maggiore vicinanza. Ci hanno solo avvisato e siamo accorsi qui. Il Lido come ben potete vedere era stato attenzionato e recintato perché era un inizio cantiere. Tutto il resto, le posso solo dire l'amarezza, la tristezza di trovarci in questa nostra terra perché poi la nostra terra con questa situazione è triste, grave, triste e grave. Finalmente avevamo ottenuto dalla Comune la possibilità di ripristinare lo stato dei luoghi e per la seconda volta chiediamo aiuto alle istituzioni con la speranza che questa seconda volta siano più celeri ma soprattutto nei nostri confronti capiscono che effettivamente noi abbiamo un disagio. Li vorremmo sentire ancora più vicini rispetto a come sono stati prima. Il nostro Lido funzionava, andava bene, tutti erano contenti. Speriamo presto in una risoluzione a questo problema. Stato un ritorno in classe problematico oggi per gli alunni delle elementari e delle scuole per l'infanzia dopo le vacanze di Natale a causa dello sciopero in tutta Italia che è stato inscenato dai docenti per protesta contro quella che i sindacati che hanno indetto lo sciopero, vale a dire ANIEF, la sigla che più si è battuta per questo, e poi il SAES ed il CUB con l'adezione dei COBAS, per quello ripeto che i sindacati hanno definito la vergognosa sentenza del Consiglio di Stato sui diplomati magistrali. A Roma si è tenuta davanti alla sede del Ministero in Viale Trastevere la principale manifestazione ma manifestazioni sono tenute anche a Torino, Milano, Bologna, Palermo, Cagliari, Bari e Catanzaro. Tutta colpa della sentenza prenatalizia del Consiglio di Stato sui diplomati magistrali. Vicenda complessa che riguarda nello specifico il diritto dei diplomati magistrali prima dell'anno scolastico 2001-2002 ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. Da parte delle principali organizzazioni sindacali, cioè CGL, CISL, UIL, GILDA e SNALS, è stata chiesta una soluzione politica in grado di ricomporre i diritti di tutti, consentendo di riaprire le graduatorie d'istituto per permettere l'inserimento dei docenti che erano stati esclusi dalla seconda fascia. I sindacati chiedono la conferma dei 6.000 neoassunti, quelli che sono stati immessi proprio nello scorso anno scolastico, e di 44.000 docenti poi chiedono invece l'assunzione o meglio l'inserimento con riserva nelle graduatorie ad inserimento e ad esaurimento. La Ministra Fedeli oggi, per non saper leggere e scrivere il caso di dire, visto che parliamo di scuola, ha detto che dopo il parere all'avvocatura dello Stato che il Governo ha chiesto perché dia le linee attuative della sentenza del Consiglio di Stato, cioè non appena arriverà la risposta dall'avvocatura dello Stato, convocherà le parti per trovare una soluzione, la soluzione più idonea, così ha detto la Fedeli. Ci siamo lasciati alle spalle le vacanze di Natale, una delle più belle parentesi di questa parte terminale, diciamo, delle vacanze, certamente è stata la Befana del Poliziotto che è andata in scena in diversi ospedali della Calabria. A Catanzaro da diversi anni, è la ventiduesima edizione quella che si è svolta, ma da diversi anni il COISP in particolare organizza la Befana del Poliziotto e il COISP la organizza in tre città italiane, una al nord Verona, l'altra al centro Roma e l'altra appunto a Catanzaro e la Befana è arrivata nei reparti di pediatria e chirurgia pediatrica dell'ospedale pugliese. Per il ventiduesimo anno consecutivo a Catanzaro la Befana del Poliziotto ha reso meno insostenibile l'adeggenza ospedaliera dei bambini ricoverati in quello che per loro dovrebbe essere il periodo più bello dell'anno. Grazie all'evento promosso dal sindacato di polizia COISP infatti è stato possibile regalare dolci e giocattoli e soprattutto qualche ora di festa ai piccoli pazienti dei reparti di pediatria e chirurgia pediatrica e far sopportare meglio a loro e dalle loro famiglie il fatto di non poter festeggiare fra le mura domestiche. La Befana del Poliziotto è organizzata dalla segreteria regionale del COISP e Catanzaro è una delle tre città italiane in cui si svolge, le altre sono Verona e Roma. Grazie alla collaborazione dell'azienda ospedaliera che guarda con favore all'iniziativa le porte dei reparti si spalancano per la consegna di calze e giocattoli ai bambini ed anche come sottolineano il direttore dell'unità operativa di pediatria Giuseppe Raiola ed il segretario del COISP Calabria Giuseppe Brugnano per far capire ai bambini che il poliziotto è un amico di cui fidarsi non solo nel giorno dell'epifania ma durante tutto il percorso della loro vita. Vogliamo lanciare ancora una volta un segnale di vicinanza ai bambini, diventare per loro un punto di riferimento per il futuro per fare in modo che intendano il poliziotto come una figura cardine nella loro crescita. Un momento importante perché non solo per quello che è dal punto di vista così per i bimbi la figura della Befana ma è un momento molto importante perché è un momento in cui la istituzione quindi la polizia proprio si avvicina ai nostri ragazzi e poi come ho avuto modo di affermare più volte nel corso di questi giorni. Io ritengo che le forze di polizia possono più che mai rappresentare delle agenzie, un'agenzia formativa che si può andare ad aggiungere alle altre agenzie formative riconosciute, quale sono la scuola, la chiesa, la famiglia, perché è un ruolo molto importante che oggi la polizia può avere con la polizia così come tutte le forze di polizia e quella di svolgere un ruolo di formazione e formazione alla legalità per i nostri giovani. Per gli attori dell'iniziativa l'enorme soddisfazione di poter alleviare la sofferenza dei bambini. Una sensazione umanamente gradevolissima tanto che anche la Befana sottolinea come la ricompensa più bella sia... Il sorriso è la parte più bella della nostra missione e poi i regali, regali perché hanno bisogno di sorridere, di sentirsi amati e sono molto emozionata, questo è il terzo anno per me, però è bellissimo vedere i loro visi, i genitori e tocchiamo con mano un po' la sofferenza. Quindi in questo momento mi carico di allegria e simpatia, quella che cerco di avere di più per poter aiutarli, almeno sorridere, che è la cosa principale. Però i regali per fortuna loro li hanno, quindi tra dolci, tra calze e qualche giochino rendiamo questa ora almeno felice per loro. Mi chiedo alla moglie davanti al figlio minorenne in casa, ieri per questo è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni personali a Reggio Calabria dalla polizia. Un uomo di 41 anni è finito per questo in carcere. Gli agenti sono intervenuti poco dopo la mezzanotte scorsa in un appartamento, c'erano forti urla anche perché la lite tra marito e moglie è presto degenerata e ripeto, nell'abitazione c'era il figlio minorenne della coppia che ha assistito all'aggressione ai danni della madre che ora è ricoverata in ospedale. In passato l'uomo si era già reso protagonista di episodi di violenza nei confronti sia della moglie che di altri familiari. Era l'ultima notizia per questa edizione, il telegiornale torna alle 19 e 20. Grazie per averci seguito e a stasera. Grazie a tutti.